Ok, li seguo. È un po' ripido, speriamo di non farci male. Ok, puoi scendere. C'è un civile. Ok. Allora, tu puoi salire sopra la scaletta. Approfitta ora, così con lo sniper mi copri. Approfitta, approfitta ora. Siamo all'ingresso. Lo vedo. Ne vedo tre. Credo siano tutti contatti nemici. Dove c'è la camionetta mimetica. Ricevuto, si avvicina uno o avvicina me. Sono due. Lo posso fare, è verde, gli altri sono lontani. Quello sotto, quello vicino a me. Se gli altri sono lontani, puoi farli pure. A terra. Quello a ovest. Ok, allora faccio quello a destra. Aspetta il mio via. Aspetta il mio via. Via, falle fuori, falle fuori. Perfetto. A terra. Ok. Ok. Dietro questo trovi il primo contatto. Sì, l'avevo, l'ho visto. Ce l'ho sottotiro. Lo faccio fuori. Mi confermi che è da solo? Sì, è da solo. Ok. A terra. Ok. Nascondo il cadavere. No, c'è un altro. Ho dovuto abbatterlo, speriamo che non ha allertato gli altri. A posto. Ho bisogno di copertura mentre... Non so, mi sono più coperto. Ok. Ho bisogno di copertura mentre sposto gli altri. Davanti a noi c'è un'imbarcazione. Sembra pulita. Pure il porto, quindi le piste per l'imbarco sono pulite. C'è davanti a noi una villetta. Una villetta bianca. Sto per entrare. Coprimi le uscite. Ho trovato il primo contatto. Ho trovato il primo contatto ma non è nella villa. È appena fuori. Ricevuto. A ovest. Piano terra, libero della villa. Muovo verso il secondo piano. Ok. Ho contatto che sta arrivando dentro la villa. Da nord-ovest. Lo ricevuto. Lo vedo a nord-ovest. Non ho linea di tiro perché è dalla maniera. È dentro la casa, ce l'ho, ce l'ho. Mi confermi che uno è entrato? Ok. Due sono entrati. Ce n'è uno all'ingresso a ovest e uno all'ingresso a nord. Ricevuto. Dentro non vedo nessuno. Ce n'è uno dentro. Elimito il primo. Ah no, negativo, 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 negativo. Sto uscendo fuori. Lo vedi? Ok. Allora sono in due. Sì, ora sono in due. Uno sta salendo al secondo piano. Copio. E l'altro invece se ne sta andando. Sì, lo vedo, lo vedo. È sul tetto. È a terra. Ok. Hanno sentito lo sparo, evidentemente salirà anche l'altro. Negativo, l'altro se ne sta andando. Copiato, muovo il cadavere. Dove? Ok. 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 Il drone si allontana, quindi possiamo attraversare via. Una volta sotto il ponte. Ti vedo. Nasconditi. C'è un contatto davanti a te. Non muoverti. Non muoverti là giù. Vai, Demilor, tocca a te. Vado. Ok, sono dietro le giù. Ok, copritemi. Tocca a me. Ok. 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 Colonna stretta, ci muoviamo, via. Entriamo dentro, che c'è il fascio di luce. Proseguiamo. Senti un contatto vicino a noi, davanti, nord-ovest, direi. Ricevuto. Ci siete? C'è un drone da ricognizione. Lo faccio fuori. A terra. Silenzio radio, vediamo se è annullo armato. Dai, Milord. Alza, alza il drone. Usa la visione notturna del drone e quella termica. Avanziamo io in legio. Coprici dall'alto. Vieni in legio. Ok. Senti. Due contatti davanti a noi, leggo. Guardami come cazzo siamo finiti a fare questa. Ok, vedo solo qui due contatti. Apri fuoco, apri fuoco. Sono tre. Ok. Ricarico. Altre contatti. Alfa. C'è un cecchino. C'è un cecchino sul tetto. Vado a interrogarli, vado a interrogarli. Contatto nemico. Ho fatto il cecchino. Tengo soppressione. Ok. Ok, arriva un altro contatto lungo la strada. Dietro di voi, dietro di voi. Ce l'ho, ce l'ho. Copri, copri, copri. Alfa, alfa, dietro. Dietro. Cosa ne stai dicendo? Non ho altre informazioni. Ti prego, ti prego, non uccido. Ok, mi sta dando informazioni, ragazzi. Sento voci a nord-ovest. Macchina, macchina, arriva d'ovest. Ok, ok, non scondetevi, non scondetevi. Ok, si è girato a nord. Ok, via, 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 via. Attraversiamo verso l'est, via, via, via. Ok, 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 via, via. Ok, via, via. Ok, via, via. Ok, via. Ok, via. Ok, via. Grazie a tutti.